Sembra quasi di contemplare, di avere davanti agli occhi un formicaio gigante, pieno di movimento, pieno di vitalità, pieno di operosità. Lo si intuisce fin dalle prime parole. Se non si prestasse attenzione si rischierebbe di perderne la ricchezza di significato e di inclusione. Portano da Gesù un paralitico sorretto da quattro persone. Immaginiamo che si stia parlando delle quattro persone che portano il paralitico. No, c'è gente che porta un paralitico che è sorretto da quattro persone. Quindi c'è un paralitico, quattro persone e gente che porta questo paralitico con quelle quattro persone verso Gesù. E si avvicinano, non si può entrare, l'operosità aumenta, aiutano a salire verso il tetto dell'abitazione. E c'è chi in questo grande movimento forse è già là sopra e scopre chi ha il tetto e aiuta il paralitico e le quattro persone, coloro che hanno aiutato a salire, quelli che hanno spinto verso la porta d'ingresso, verso Gesù, la porta che è Gesù. Insomma, un grande movimento. E poi dentro chi fa spazio serve un villaggio per crescere una persona. Un villaggio intero. Serve una comunità per avere un miracolo. Non basta soltanto qualcuno. Non bastano quei quattro. Sono stati chiamati, sono stati accompagnati, sono stati spinti, sono stati innalzati, sono stati calati, sono stati accomodati. Serve una casa intera che brulica di vita e ognuno trova spazio per la propria operosità, anche se non conosce nemmeno questo paralitico. Ecco che cos'è il miracolo. È questa operosità diffusa per il bene di qualcuno. Ognuno fa la sua parte per il bene di qualcuno. Nota stonata. C'è qualcuno seduto, sì. Chi lì? Soltanto per giudicare. Certo trovano spazio e tempo per giudicare perché sono gli unici che non hanno mosso un dito in questa grande casa. Loro non hanno un posto perché hanno avuto fretta di tenersene stretto uno sedendoci sui sopra.